Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie Come di consueto daremo spazio all'editoriale di Don Arturo Seguirà la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia e dell'oratorio Attraverso un podcast audio corredato da alcune immagini oggi vi proponiamo il miglior modo di fare il caffè con la tradizionale mocha e capiremo come funziona questo oggetto che non va dimenticato a favore delle nuove tecniche a cialda o capsula Fare un buon caffè è ancora un piacere ed un'arte Un artista sloveno, Marco Rupnik, presbitero gesuita ci farà conoscere attraverso la sua arte l'importante messaggio cristiano dal titolo per non scoraggiarsi perché sia insieme Buona visione Cari amici Se dovessi esprimere con un'immagine sintetica come vedo questo momento utilizzerei ciò che ho sperimentato domenica scorsa celebrando le Cresime nell'alta Val Camonica a Cortenogoggi Da un lato guardavo l'assemblea riunita dove con le doverose precauzioni gli adulti erano al loro posto davanti i ragazzi che sono il futuro un domani di cui avere fiducia dunque preoccupazione e attenzione naturalmente ma anche fiducia e speranza è importante continuare a guardarci negli occhi discernimento e prudenza sono necessarie paura e ansia controproducenti le regole sono adeguate e sufficienti ma occorre applicarle con comportamenti individuali quindi ciascuno qui e ora non soltanto prende atto ma ne decide le conseguenze alcuni atteggiamenti superficiali lottiamo in giro di chi dice ma che vuoi che sia per una volta ma quelli con cui mi vedo sono tutti sani a me non capita ecco questo modo di fare è semplicemente da irresponsabili tuttavia non bisogna nemmeno coltivare l'ansia paralizzante di coloro che chiedono a gran voce chiudiamo tutto e tutti è importante credo reagire con equilibrio e razionalità nella precisa consapevolezza del rispetto che dobbiamo avere per gli altri soprattutto pensando che possiamo avvicinarci a persone più deboli e fragili di noi e che talvolta è necessario fare un passo indietro ma anche nella comunicazione di rapporti sinceri e fraterni che sappiamo possono e potranno avvenire a distanza a proposito è importante discernere relativamente a ciò che è necessario fare in presenza e quali ne siano i motivi e le ragioni vere questo ci aiuta a capire ad esempio perché è opportuno che i più giovani possano andare a scuola mentre gli adulti se ne hanno certo l'opportunità possano lavorare a casa credo che siano due gli atteggiamenti che si devono assolutamente evitare fare tutto come prima e la superficialità del andrà tutto bene vedete tra queste due posizioni estreme c'è la fantasia concreta di chi ha fatto e farà il possibile per andare avanti di quanto desiderano fare ad esempio i catechisti della nostra parrocchia insieme con Don Nicola e con me per organizzare l'avvio del catechismo magari fine novembre con le devute cautele con i piccoli gruppi con il distanziamento necessario ma senza la decisione di chi dice basta non facciamo più niente oppure come chi dice bisogna fare come prima quindi precauzione ma anche decisione proprio come hanno scritto i vescovi della Lombardia nella loro nota dal titolo una parola amica con questo accenno credo molto interessante nelle nostre tribolazioni si sono accese delle scintille la preghiera il pensiero la speranza il prendersi cura e come sarebbe vero che queste scintille possono dare adito ecco a un fuoco cioè un elemento che crei armonia familiarità tra tutti nel desiderio di preparare un futuro che sia davvero bello come il Signore vuole mettiamoci dunque con fiducia nelle sue mani sarà Lui a guidarci pace bene e tanta serenità buona solennità di tutti i santi e serena settimana che ci attende arrivederci oggi domenica prima novembre solennità di tutti i santi in parrocchiale alle 8 santa messa per vivi e defunti compagnia sacro triduo alle 10 santa messa per i defunti zacco pierino e lina al cimitero alle 15 santa messa per i defunti zacco maria e citrelli daniele lunedì 2 novembre commemorazione di tutti i fedeli defunti in parrocchiale alle 8 santa messa per i defunti brignani antonio barbara e luigi al cimitero alle 10 santa messa secondo le intenzioni del papa e alle 15 santa messa per i defunti luigia e giacomo donelli in parrocchiale alle 20 e 30 santa messa per i sacerdoti defunti martedì 3 novembre in oratorio alle ore 8 santa messa per la defunta irma e suora armida in oratorio alle 18 e 30 santa messa pro popolo alle 20 e 30 100 requiem adorazione eucaristica e preghiera di guarigione mercoledì 4 novembre san carlo borromeo in oratorio alle 8 santa messa per i defunti rizzotto ferdinando laura pietro e giuseppe in parrocchiale alle 10 santa messa in suffragio dai caduti di tutte le guerre in oratorio alle 18 e 30 santa messa per i defunti bazzana giuseppe e carlo cappelloni giovedì 5 novembre in oratorio alle 8 santa messa per il defunto severo tomasoni alle 18 e 30 santa messa per la defunta tribuni maria venerdì 6 novembre in oratorio alle 8 santa messa per il defunto bettoni vittorio alle 15 adorazione eucaristica in parrocchiale alle 16 santa messa di inizio anno scolastico in oratorio alle 18 e 30 santa messa per i defunti bianchi giuseppe e tribuni maria sabato 7 novembre in parrocchiale alle 18 e 30 santa messa per il defunto don antonio mangialardo rubes luigi e angela le confessioni saranno presso la chiesa all'oratorio dalle 9 alle 11 domenica 8 novembre giornata del ringraziamento in parrocchiale alle 8 santa messa per i defunti de feo francesco e morbini angelo alle 10 santa messa per i defunti delle famiglie milini e malnati e boffelli maria in oratorio alle 15 ora di guardia in parrocchiale alle 18 e 30 santa messa per il defunto beltramini guido e ora alcuni avvisi ottavario dei defunti dal 2 all'8 novembre nei giorni feriali dalle 7 e 30 alle 18 preghiere delle 100 requiem giovedì 5 novembre in oratorio alle 20 e 30 ci sarà il consiglio pastorale parrocchiale venerdì 6 novembre nella chiesa parrocchiale alle 16 santa messa di inizio anno scolastico domenica 8 novembre alle 18 in chiesa parrocchiale proviamo a ripartire bambini e genitori del secondo anno momento di condivisione e santa messa domenica 8 novembre distribuzione dei sacchetti per la raccolta di san martino solo alimentari quindi latte pasta e riso pelati legumi olio zucchero farina 00 carne e tonno caffè cacao eccetera si concede l'indulgenza plenaria applicabile soltanto alle anime del purgatorio al fedele che nei singoli giorni per tutto il mese di novembre devotamente visita il cimitero e prega per i defunti che per tutto il mese di novembre visita una chiesa o un oratorio o un cimitero recitando un padre nostro e un credo e adempie le tre condizioni confessione sacramentale comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice pater ave e gloria e ora i nuovi orari di apertura dell'oratorio il bar apre il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 14 alle 18 il cortile dell'oratorio sarà aperto sabato e domenica dalle 15 alle 17 30 e ora il riepilogo delle offerte per la giornata missionaria mondiale 1134,71 euro per la stampa missionaria con Boniana 222,50 euro e per il restauro in memoria di benvenuti Mario 1870,10 euro il comune di Gottolengo annuncia la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2020 e 2021 le vaccinazioni avverranno presso il palazzetto dello sport di via grammatica le vaccinazioni si effettuano esclusivamente su appuntamento prenotando telefonicamente in comune all'ufficio servizi sociali il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 telefono 030 95 18 7 1 1 le vaccinazioni avverranno mercoledì 18 novembre dalle 9 alle 12 mercoledì 2 dicembre dalle 9 alle 12 mercoledì 9 dicembre dalle 9 alle 12 mercoledì 16 dicembre dalle 9 alle 12 mercoledì 23 dicembre dalle 9 alle 12 e mercoledì 30 dicembre dalle 9 alle 12 gli appuntamenti verranno dati agli utenti dai 65 anni e agli utenti di qualsiasi età con esenzione per patologie verranno inseriti invece in lista d'attesa gli utenti tra i 60 e 64 anni i conviventi di soggetti a rischio utenti di medici di base che hanno aderito alla campagna e che devono fare solo il pneumococco e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni non patologici Comune di Gottolengo manifestazione del 4 novembre l'associazione Combattenti Reduci e il gruppo Alpini in collaborazione col Comune di Gottolengo vi invitano alla commemorazione del 4 novembre alle ore 9.40 raduno in piazza del Comune e corteo verso la chiesa parrocchiale alle ore 10 Santa Messa in commemorazione dei caduti di tutte le guerre indi formazione del corteo e deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti saluto istituzionale del sindaco e partecipazione corale e voce narrante degli alunni delle scuole di Gottolengo Oggi Teleradio Gottolengo vi offre un caffè corretto scienza col contributo di Physicast un podcast audio pensato per tutti coloro che vogliono capire meglio come è fatto e come funziona il mondo che ci circonda fare il caffè è un'arte ma è anche una scienza in questa puntata quelli di Physicast ci parleranno delle leggi fisiche dentro uno strumento apparentemente banale la caffettiera Mocha Physicast curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade mocha espresso napoletana qual è il segreto di un buon caffè parliamo di questo gustoso rapporto fra arte e scienza con Valerio Ippolito ricercatore dell'istituto nazionale di fisica nucleare di Roma va bene nonno ho capito no perché tutte le volte ve lo devo dire nonno e fai la macchinetta da tre lasciala stare ormai è grande ma tocca dirle tutto tocca la devi riempire bene fino all'orno e mi raccomando non fare la montagnetta come fa tua zia non fare la montagnetta come fa quella sconsiderata di tua zia piccola un buon caffè che se no non viene fuori dai su che ognuno è fatto a modo suo a modo suo il caffè è un'arte è fatto a mestiere non fa quelle cose là le pastiglie le capsule fa roba dell'altro mondo valerio chiara hai messo l'acqua fin sopra la valvola sì lascia stare tutte le domeniche è un incubo non lavare la caffettiera tieni il fuoco al minimo premilo un po' di più che non sa di niente sembra magia nera sembra ma alla fine è solo termodinamica ah sì eh sì ti sei mai chiesta come funziona una moca male funziona per questo a casa ho le capsule allora spiegami innanzitutto tu quanta acqua metti fin sopra la valvola no? insomma più acqua possibile ma senza che il caffè si bagni subito e poi? poi metto il caffè nel filtro poco per volta lo appiattisco bene come dice quel brontolone di mio nonno in modo che alla fine sia compatto e arrivi fino all'orlo poi chiudo stringo ma non troppo se no chi li sente quando c'è da sciacquare la macchinetta e metto sul fornello col fuoco al massimo finché non comincia a fare rumore a quel punto abbasso il fuoco aspetto che sia uscito tutto e servo con un bel cucchiaio di zucchero direbbe mia nonna esatto non ci siamo Chiara non ci siamo ah no? no partiamo da zero come funziona una moca? beh c'è l'acqua che piano piano bolle il vapore sale su per il filtro e dopo un po' è pronto questo è quello che credono in molti e invece? invece le cose sono un po' più complicate di così tieni presente che la moca è stata inventata nel 1933 dal signor Bialetti che le ha dato il nome di una città iemenita rinomata per la qualità del suo caffè ma ci sono venuti più di 70 anni perché uscisse un primo articolo scientifico con una spiegazione fisicamente corretta di come funziona tutto comincia dalla struttura della caffettiera come è fatta la caffettiera? ha un serbatoio il filtro a imbuto per il caffè e la vasca superiore esatto e la struttura dei telecomponenti è particolarmente ingegnosa il serbatoio che cosa contiene? beh acqua? solo acqua immagina di riempirlo fino a un certo livello ma almeno abbastanza che l'imbuto della vaschetta del caffè vi rimanga immerso sotto c'è l'acqua sopra rimane un po' di spazio ah giusto giusto acqua e aria e vapore accendi il fornello quel grosso pezzo di metallo che è la caffettiera inizia a scaldarsi e con lui si scaldano l'aria e l'acqua contenuti nel serbatoio l'acqua quando la scaldi evapora e poi inizia a bollire ma l'aria che fa? beh si espande? esatto quando scaldi l'aria nel serbatoio la pressione aumenta e l'aria si espande sopra di sé l'aria trova il metallo del filtro del caffè che la ostacola per cui non ne resta che premere sulla superficie dell'acqua dall'alto verso il basso facendola risalire piano piano su per il filtro il vapore dovuto all'evaporazione dell'acqua fa altrettanto e il risultato è che sia la prima fase di fuoriuscita del caffè quella che nell'articolo scientifico che ti dicevo è chiamata fase di estrazione regolare immagino ci sia anche una seconda fase giusto? ovvio nella prima fase l'acqua sale verso l'alto spinta dalla pressione dell'aria attraversa il filtro imbibisce il caffè e infine fuoriesce lentamente dalla parte superiore della caffettiera colando dal cilindretto forato il livello dell'acqua nel serbatoio scende scende e scende ancora finché non arriva sotto all'imboccatura dell'imbuto del filtro e a quel punto a quel punto hai presente una pentola a pressione piena d'acqua? sì se mantieni la pentola sotto pressione mentre la scaldi l'acqua aumenta di temperatura però rimane liquida questa è una conseguenza delle leggi che governano il passaggio dell'acqua dallo stato liquido a quello solido o gassoso al variare di pressione volume e temperatura che sono rappresentate nel cosiddetto diagramma di stato dell'acqua che si studia a scuola nella pratica questo ti permette di avere acqua che rimane liquida anche a temperature elevate ben sopra i 100 gradi qui succede una cosa simile a mano a mano che la caffettiera si scalda non appena l'acqua scende sotto al livello dell'apertura dell'imbuto la pressione cala di colpo perché la miscela di aria e vapore è improvvisamente una via d'uscita verso l'esterno della caffettiera non appena abbassi la pressione la poca acqua rimasta nel serbatoio che appunto raggiunge anche i 120 gradi bolle di colpo e il vapore prodotto si fa strada attraverso il caffè e irrompe nella parte superiore della caffettiera è una fase piuttosto rumorosa che non a caso gli autori di quell'articolo chiamano fase stromboliana per un caffè dall'aroma vulcanico alla Roma ci arriviamo subito fin qui abbiamo capito che la moca funziona perché c'è aria nel serbatoio la scaldiamo lei si espande e spinge fisicamente la massa d'acqua attraverso il filtro questo già ti dà un'informazione sul livello dell'acqua che non deve essere troppo alto? esatto l'ideale è rimanere subito sotto la valvola di sicurezza a spanne per una moca da tre persone avrei circa cinque parti d'acqua e una d'aria la valvola serve per il vapore immagino? già proprio come per la pentola a pressione nel caso qualcosa vada storto ad esempio se dovesse intasarsi il filtro l'aria deve poter sfuggire prima che la caffettiera diventi pericolosa ed è l'aroma che mi dici? per l'aroma qui entriamo nel campo della chimica come immagini per fare un buon caffè ci vuole innanzitutto il caffè una volta selezionata la nostra miscela preferita il gioco diventa quello di estrarre dai chicchi macinati le componenti aromatiche che più ci piacciono che alla fine non sono altro che composti di molecole per farlo però abbiamo un unico strumento l'acqua l'acqua che sta salendo dal serbatoio proprio lei il gioco è difficile perché dobbiamo bilanciare le componenti che danno un sapore più amaro con quelle che danno un sapore più tenue ed evitare come la peste il sapore di bruciato per cui sono famosi i caffè di tanti dei nostri parenti all'inizio l'acqua sale con una temperatura relativamente bassa che è attorno ai 70 gradi ed estrae molecole che sono facilmente solubili e volatili il caffè da asciutto immaginato che era a quel punto si gonfia e inizia a opporsi al passaggio dell'acqua aumenta la pressione nel serbatoio aumenta la temperatura e l'acqua che continua a venir su inizia a estrarre molecole a mano a mano più interessanti l'aroma aroma che dobbiamo preservare il più possibile evitando che la temperatura dell'acqua che attraversa il caffè sia troppo bassa per cui si avrebbe un sapore troppo fiacco oppure troppo alta diciamo che idealmente non dovrebbe superare i 90-95 gradi quindi vale il principio del fuoco basso se non si brucia? non solo bisogna tenere il fuoco basso ed evitare la fase stromboliana appena senti il gorgoglio tipico di questo momento così vulcanico spegni subito il fornello ok vediamo acqua fin sotto la valvola di sicurezza sì e poi caffè? non troppo è troppo poco non fare la montagnetta non fare la montagnetta come fa tua zia comprimilo un minimo ma senza esagerare fallo però con uniformità perché l'acqua possa farsi strada senza problemi attraverso tutto il caffè e poi chiudo e via sul fornello al minimo così da mantenere il processo di riscaldamento espansione eccetera il più possibile graduale se vuoi divertirti c'è un bel video su youtube che è stato girato da un gruppo di ricercatori dei laboratori del Paul Scherer Institute in Svizzera che mostra tutto il procedimento filmato con una neutron camera una specie di radiografia video ottenuta bombardando con un fascio di neutroni una caffettiera in funzione un fascio di neutroni? sì è un'idea simile a quella dei raggi X che sfrutta però il fatto che i neutroni interagiscono in maniere molto diverse con l'acqua e il metallo della moca in questo modo puoi vedere nitidamente quello che succede dentro la caffettiera ma dai e che si vede? più o meno tutto il processo che ti ho descritto dalla macchinetta spenta fin dopo la fase stromboliana vai su youtube e cerca coffee neutron camera e voilà dici che basterà un po' di scienza far venire questo caffè buono come un espresso? beh Chiara sono due cose diverse nella moca la fisica che c'è dietro al suo funzionamento chiamata termodinamica viene complicata dal fatto che l'acqua nel serbatoio non è in equilibrio con la miscela di aria e vapore che vi preme sopra che significa che la temperatura non è sempre la stessa nei vari punti del serbatoio di conseguenza nella moca la temperatura durante le fasi regolare e stromboliana non è costante la macchina espresso di un bar è uno strumento di ingegneria sofisticata lavora con acqua a una temperatura stabile attorno agli 88 gradi ha una pressione che è di circa 9 atmosfere che significa 4 o 5 volte più elevata della pressione media nella tua moca in questo caso l'acqua passa molto più velocemente nella polvere di caffè che tra l'altro viene macinato più fine e il caffè pronto in una ventina di secondi deve essere stato un bel passo avanti per i baristi del secolo scorso un po' prima del secolo scorso una prima forma di macchina espresso pare sia stata brevettata nel 1884 da Angelo Moriondo a Torino un tempo la pressione necessaria per ciascun caffè veniva data azionando ogni volta a mano un'apposita leva adesso invece c'è una pompa automatica che fa tutto piuttosto pratico quando si hanno tanti clienti ma invece questo famoso caffè napoletano? roba d'altri tempi la caffettiera che i napoletani chiamano cucumella è fatta da due parti come nel caso della moca che sono separate da un filtro in cui si inserisce il caffè riempi la parte sotto d'acqua la scaldi fino all'ebollizione e poi capovolgi la caffettiera l'acqua a quel punto scende piano piano verso che non c'è la spinta improvvisa che nella moca e nell'espresso viene dal vapore è un po' come se fosse una clessidra di caffè in pratica correggimi se sbaglio una specie di moca a bassa pressione bassissima parliamo di qualche centimetro di colonna d'acqua che in numeri significa un centesimo d'atmosfera che devi confrontare contro le 1 o 2 atmosfere della moca il movimento dell'acqua attraverso il caffè che si chiama per colazione è un movimento lentissimo possono volerci anche 5-10 minuti prima che il caffè sia pronto oh mamma davvero roba di altri tempi in effetti cambiano sia il sapore che il rituale presto o prima che si bruci grazie Valerio che dici gli do una mescolata mescola mescola armonizzerai il sapore del caffè estratto all'inizio che ha una temperatura un po' più bassa con quello alla fine un po' più caldo ma veloce che se si raffredda chi li sente vado era ora bella mia ce l'hai messo lo zucchero ce l'ho messo ce l'ho messo ah questo sì che è un caffè lo vedi almeno lei sì che ha preso dal nonno un'arte il caffè è un'arte glielo dico sempre a quella sconsiderata di tua figlia il mestiere è il mestiere il caffè non deve essere nel tribolo il caffè non deve essere il caffè non deve essere nel tribolo il caffè non deve essere nel tribolo di Svesta Fisicast è un podcast in cui i docenti universitari e i ricercatori parlano di fisica con il linguaggio di tutti i giorni ideato da Riccardo Faccini Gianluca Licausi Giovanni Mazzitelli e Giovanni Organtini e realizzato con il supporto dell'associazione Frascati Scienza e di ricercatori dell'istituto nazionale di fisica nucleare di quello di astrofisica e della sapienza interviste di Chiara Piselli e montaggio di Edoardo Massaro le puntate precedenti e altre informazioni sono consultabili su www.radioscienza.it slash fisicast commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi per cui potete contattarci a fisicast chiocciolaradioscienza il sito di fisicast è www.radioscienza.it barra fisicast ma potete seguirli anche su facebook all'indirizzo www.facebook.com barra fisicast podcast e con questo è tutto ricordandovi che gli avvisi relativi alla vita della parrocchia e dell'oratorio sono visibili e consultabili tutta la settimana sul canale tv tradizionale vi auguriamo una buona domenica e una buona settimana allora se la vita che noi riceviamo è quella del figlio e possiamo diventare il dono possiamo vivere come offerta dunque come chicco di grano che germoglia e allora è evidente che è Dio che ci consola e non siamo noi a consolare Dio perciò non troviamo mai una Madonna nell'Oriente cristiano che consola il figlio questo poi nasce nell'Occidente in barocco ma non siamo noi a consolare Dio evidentemente è Lui che ci prende la nostra situazione su di sé allora nasce rimane ancora una questione vorrei dire due parole su questo e concludo allora uno va e prega eppure forse molte volte si sente che non serve niente perché non succede niente anche dopo che ho pregato tanto e proprio qualche domenica fa c'era nel Vangelo di Luca questo brano dove viene detto che disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi e allora quando uno sperimenta questo declino umano questa fragilità della nostra realtà umana e ci sembra di mancare il contenuto di questa umanità cioè che si sente vuoto che si sente il perire no? allora uno prega però non succede niente molte volte allora perché Cristo dice di pregare senza stancarsi ma se noi andiamo in greco nel testo greco si capisce un po' meglio perché Enkakein che viene tradotto senza stancarsi stancarsi si se noi guardiamo i paralleli che sono e li voglio proprio citare perché se qualcuno li vuole andare a vedere i paralleli che abbiamo dentro il Nuovo Testamento per esempio Paolo li usa diverse volte la stessa parola nelle Fisini 3.13 secondo Corinti 4.1 4.1 4.16 Galati 6.9 sono paralleli dove troviamo la stessa parola greca e immediatamente capite che non significa questo che viene tradotto qui ma viene tradotto veramente diversamente come viene tradotto parabola sulla necessità di pregare sempre per non scoraggiarsi per non perdersi d'animo perché? e cambia molto perché adesso sembra che bisogna pregare senza stancarsi no 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 pregare perché se non preghi ti perdi d'animo ti scoraggi nella situazione nella quale ti trovi non scoraggiarti a pregare nella situazione in quale ti trovi cioè pregare sempre che se no la situazione ci fa diventare cattivi tanto è vero che il contesto è proprio questo perché questo vedo va a chiedere giustizia perché subisce una ingiustizia siccome questa non viene esaudita quale rischio se cessa a chiedere la giustizia che se la fa da sola e come la farà? come fa il mondo? diventerà cattiva violenta tanto che ci sono già antichi commentatori che hanno tradotto così pregare sempre senza diventare cattivi per non incatevirsi perché la situazione nella quale ti trovi è drammatica non è che uno va a pregare prima di un esame quello è inutile pregare quello è meglio studiare ma quando invece no? questo è sempre ridicolo che la gente va a accendere le candele accendi il cervello non candela non accendere niente no? ma quando la situazione di vita è dura e tu subisci delle cose e sei credente ti rivolgi al Signore ti rivolgi alla sua madre che capisce perché la madre capisce perciò è importante quella di madre no? allora ti rivolgi con la preghiera perché bisogna insistere? perché se non prego faccio da solo e voi sapete come fa l'uomo da solo male faccio da solo secondo me comincio a fare secondo il mondo e allora entro nel male del mondo nella logica del mondo allora è importante per noi cristiani a insistere nella preghiera che non significa essere testardi ma avere un colloquio aperto come tra loro due vedi che lui si stringe su per parlarle per avere un colloquio la preghiera significa vincere la solitudine comprendere se stesso con l'altro con Cristo vedere se stesso insieme all'altro questa è una preghiera allora io li parlo li continuo a parlare perché se no rischio di accattivirmi di diventare cattivo di diventare duro di deprimermi di abbandonarmi alle passioni perché ho mollato tutto e no è il colloquio che mi tiene no è la compagnia che mi tiene nel bene se sto con la gente buona no ho indicato voi due per non sbagliare allora se sto con la gente buona rischio di diventare buono no è chiaro questa è la cosa l'ultima cosa verso la fine del brano siamo nel capitolo 18 di Luca invece viene detto avete udito ciò che dice il giudice disonesto no che dice mi sono stufato anche lì il greco è simpatico dice questa mi sta colpendo continuamente e rischia di fare male alla mia immagine nelle prossime elezioni allora dice io questa la faccio buona perché così almeno parlerà bene di me questo è il motivo per il quale lui mola ma Cristo dice e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui li farà a lungo aspettare no anzi in greco si può capire anche con sorpresa improvvisamente le farà giustizia però tutta la parabola che cosa fa vedere che comunque c'è un enorme scarto tra la nostra preghiera e la risposta di Dio Dio arriva sempre in ritardo sulla nostra supplica c'è un ritardo permanente e per i padri della Chiesa questo è fondamentale anzi ho trovato un testo di un padre che dice questo ritardo di Dio che noi lo percepiamo ritardo no io lo chiedo una cosa e non arriva non arriva non arriva la situazione peggiora dice questo padre questo ritardo è una tenerezza di Dio verso di noi perché? perché ci dà un'altra occasione affinché noi facessimo un passo quale? di accogliere giustizia secondo il giusto non secondo la mia visione di accogliere la sua visione vedi che anche lì Maria dovrà accogliere la visione del figlio e non viceversa e Maria si doveva convertire Maria si è convertita più volte nella vita perché? perché aveva che vuol dire convertirsi? vedere oltre avere un pensiero nuovo aveva un pensiero e poi figlio mi ha fatto scoprire ancora oltre e ancora oltre e ancora oltre e questo ritardo di Dio sulle nostre preghiere è questa occasione che noi accogliamo e non ci intestardiamo ma accogliamo e accogliendo si scopre che Dio fa e fa bene e fa giusto ma non secondo il mio calcolo chi ha già capelli un po' bianchi o chi non ce l'ha più quante volte nella vita abbiamo ringraziato Dio che non è andato secondo le nostre cose secondo i nostri desideri ma abbiamo scoperto che è stato un disegno providenziale sotto è vero o no? questo è quel tempo che Dio ci dà che sta tardando che non arriva subito è preziosissimo perché noi abbiamo fretta e un padre della chiesa viene discepolo e dice Abba cosa è il peccato? questo padre guarda un po' in giro torna al figliolo e gli dice la fretta Dio ci fa tardare per quale motivo? per arrivare preparati all'appuntamento tanto è vero che lui dice ma quando verrà il figlio troverà la fede? cioè troverà qualcuno che lo accoglierà? che accoglierà lui? oppure tutti insistiamo sulle nostre idee ci troverà qualcuno che lo accoglierà? perché lui sta andando a Gerusalemme dove sarà la passione dopo un capitolo e non ha riuscito in tutto il viaggio dell'undicesimo capitolo in Luca non è riuscito a convincere nessuno nel senso della sua donazione del suo dono del suo fallimento negli occhi del mondo non ha convinto nessuno perciò dice bene troverò qualcuno che mi capirà che mi accoglierà e noi preghiamo per questo motivo per essere pronti all'appuntamento e Dio ci fa tardare perché ci fa preparare a essere in grado di accogliere la fede non è conquista è accoglienza e Dio ci fa e Dio ci fa